Ehi là, Big Genius! Ancora le prese con questo maledetto Talk-E? Ecco allora per te un'altra fantastica simulazione sugli esercizi di logica! Ciao, sono Matteo, anche noto come Super Matti, il tuo supereroe scientifico sempre a portata di Click, pronto a darti una mano sia in matematica che in fisica. E oggi continuiamo la nostra esercitazione sulla logica per i quiz del Talk-E. Se hai ancora qualche dubbio su come funziona il Talk, il Talk-E e tutta quella roba lì, boom! Qui una serie di video già pronta per te. Mi raccomando, non tardare ad iscriverti, non fare danni, segui tutte le regole, altrimenti poi studiamo, studiamo e boom! Non possiamo fare il test. Ma concentriamoci subito sul primo quesito e andiamo virtualmente dal mio amico Franco il Tabaccaio. Franco il Tabaccaio ha in cassa 195 euro, beato lui mi verrebbe da dire, e non ha monete, meglio ancora, solo banconote per Franco. Un cliente gli chiede se ha da cambiare 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro. Va bene, ok, ma Franco risponde a malincuore di no a tutte le richieste. E che c'ha sto Franco nella cassa? Cioè, questa diventa la domanda fondamentale. E infatti, quanti pezzi da 20 euro ha in cassa il nostro amico Franco il Tabaccaio? Una banconota 4, 3, 2, 0. Ricordati che c'è la penalizzazione, non possiamo rispondere a casaccio, non smetterò mai di dirlo. Usiamo il cervello, logica, ragionamento logico-deduttivo. Allora, se il mio amico ha 195 euro, la prima idea che mi faccio è che molto probabilmente una banconota da 100 ce l'avrà. Dai, vuoi che non abbia una banconota da 100? Poi, ragioniamo, se non ha da cambiare i 10 euro, molto probabilmente non ha due banconote da 5, giusto. Ma una da 5 ce la deve avere per forza, perché se no i 195 euro, ma come ce li ha Franco? Le monete non ci sono, quindi sicuramente 5, una banconota da 5, Franco ce l'ha. Quindi abbiamo assunto una banconota da 100, grande, perché tanto, ok. Benissimo, una da 5, rimangono 90 euro. Come ce li ha questi 90 euro? Allora, se avesse da cambiare da 20, ne avrebbe due da 10, perché da 5 abbiamo detto che ne ha solo una, quindi non può usare i 5 per cambiare. Quindi ne deve avere per forza due da 10, ma due da 10 non ce le può avere. Quindi, o ne ha una da 10, o addirittura non ce ne ha nessuna da 10. Questo dove lo capiamo? Lo capiamo da come può cambiare i 50 euro. 50 euro, non ci sono tanti modi per cambiarli, non sfruttando i 5 euro. I 50 euro li può cambiare a questo punto solo come 20, più 20, più 10. Quindi, in teoria, ci potrebbe stare questa cosa. Però dice che non ha da cambiare neanche 100. Facciamo una prova. Io intanto qui ci metterei una banconota da 50, che male non fa, perché una ce la può avere, perché non ha da cambiare 100 euro, una ce la può avere. Siamo a 155. A questo punto dovrebbe avere due banconote da 20 e in questo modo farebbero tranquillamente i nostri 195 euro. Controlliamo se ho ragione. 150, 190, 195. Perfetto. I conti sembrerebbero tornare. Quindi che vuol dire? Che in realtà lui questa banconota da 10 non ce l'ha. Ora, fatto tutto questo ragionamento, sembra filare, la risposta sembrerebbe essere due banconote da 20. Vediamo se torna con le cose che non ha da cambiare. Con queste banconote può cambiare 10 euro? No. Può cambiare 20 euro? No. Può cambiare 50 euro? No. Può cambiare 100 euro? No. Sembrerebbe che tutto fili. Quindi la risposta corretta dovrebbe essere la D, cioè Franco il tabaccaio ha solo due banconote da 20 euro. Da Franco il tabaccaio ha una lite sul caffè. Fantastico oserei dire. In una discussione tra amici Antonio dice A tutti noi piace il caffè, tranne che a Paola, a cui non piace. Fabio osserva che Antonio ha torto. Ne consegue che? Mmm, interessante. Allora, io ti inviderei a leggere subito la E, mi fa impazzire a me. Non è possibile che a qualcuno non piaccia il caffè. Io sono sempre d'accordo con questa frase, da bravo amante del caffè. Ma ovviamente questa è la prima che scarterei. Perché? Perché fondamentalmente non ha senso, non dice nulla. Rileggiamo però un attimo prima la frase fondamentale. A tutti noi piace il caffè, tranne che a Paola, a cui non piace il caffè. Quindi questa frase, in logica, può essere letta come due proposizioni che sono congiunte insieme. Quindi a noi piace il caffè e a Paola non piace il caffè. Se la andiamo a negare e dire che Fabio dice che Antonio ha torto significa negare la frase, quindi fondamentalmente l'idea è prendi questa frase e negala. Se io vado a negare una congiunzione e, quello diventa un or, cioè un o, oppure. E se andiamo a leggere le frasi, l'unica che presenta un oppure decente è la di. O a Paola il caffè piace, oppure c'è qualcuno tra gli amici oltre a Paola a cui il caffè non piace. Capisci? Ci si può arrivare logicamente, ma se io ho capito che la negazione di un end è un or, io ho vinto. È molto più facile tutto il gioco. Il castello di carte è dieci volte più semplice. Assomiglia ad un esercizio che abbiamo già fatto in un'altra simulazione di logica del talkie che trovi lì. Continua a vederli, più ne vedi, più ne fai e meglio sarà. Non potevamo che concludere in bellezza questa esercitazione di logica sul talkie con degli stupendi archeobatteri. Fantastico! Ora anche un po' di super quark, oltre che super matt. Direi geniale. Gli archeobatteri sono organismi unicellulari e si riproducono per scissione. Passano cioè da uno a due, ti ho scritto qui, adesso poi lo capiamo meglio, tranquillo. Una sola volta al giorno, quindi ogni volta, una volta al giorno, si dividono da uno due, da un altro altri due, da un altro altri due e via dicendo. Una volta al giorno, immettendo un archeobatterio nello stagno, si ha che in 30 giorni la superficie di quello stagno si è completamente ricoperta di questi stupendi esserini. In quanti giorni si ha la superficie ricoperta se invece di immettere un solo archeobatterio ne immettiamo ben due? Esatto, questa è la domanda. Risposte 30 giorni, 28 giorni, 29 giorni, dipende dallo stagno, 15 giorni. Leggendo le risposte salta immediatamente all'occhio la fantastica risposta, come avrai notato, tra le cinque opzioni possibili. Ce n'è sempre una un po' fallata, una che si esclude facilmente. Dipende dallo stagno. Non può dipendere dallo stagno, perché la superficie dello stagno a questo punto è fissata, è sempre la stessa, quindi di conseguenza non può dipendere dalla superficie dello stagno, non dipende dallo stagno. Bene, detto questo come si ragiona? Torniamo un attimino all'ascissione. Qui c'è un batterio che si divide in due stupendi esserini, quindi qui siamo fondamentalmente al giorno 0, qui siamo fondamentalmente al giorno 1, poi andiamo al giorno 2. Che cosa succede? Al giorno 2 ho due stupendi animaletti, che sono diventati però 4 a questo punto, e via dicendo in questo modo una crescita di tipo esponenziale. Al giorno 3 saranno 8. Ti fa pensare a qualcosa? Beh, ti fa pensare al fatto che sono tutte delle potenze di 2. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se questi animaletti si riproducono per n giorni, nel nostro caso 30 giorni, avremo 2 alla 30 animaletti che ricoprono la superficie. Quindi vuol dire che per ricoprire la superficie dello stagno servono 2 alla 30 animaletti. Quindi vuol dire... O archeobatteri, vabbè, mi viene più simpatico animaletti. Quindi, fondamentalmente quindi vuol dire che la superficie dello stagno la possiamo ugualiare a 2 alla 30 animaletti. Geniale, oserei dire. Questo che vuol dire? Che la superficie dello stagno, come ho detto prima, è fissata. Ma se io adesso non immetto più un solo batterio al giorno 0, ma ne immetto 2, fondamentalmente è tutto molto più rapido. Perché? Perché è tutta la scena di prima, ma moltiplicata esattamente per 2. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che io avrei 2 per 2 alla x, dove x sono i giorni che impiego, che io sto ricercando, che deve andare a ricoprire la mia superficie S. Mi segui? So che è un po' contorto. Ovviamente se c'è qualche dubbio, commentino qua sotto. Mi raggiungi sulle mie pagine social, Instagram, Facebook, insomma, dove vuoi, io ci sono. Conta pure su di me. Però fondamentalmente 2 per 2 alla x. Perché? Perché questo schema che ho spiegato prima si ripete due volte. 1 e 2. Ci siamo fino a qui. Perfetto. Ora, questo serve a ricoprire cosa? È sto benedetto stagno. E quindi? E quindi, morale della favola, deve essere uguale a 2 alla 30. Cioè, devo avere alla fine la stessa identica copertura. Ecco perché non dipende dallo stagno, no? Ok? Perché quello è fissato. Ora, per le proprietà delle potenze, questo si dovrebbe leggere come 2, perdonami, scrivo qui, alla x più 1, uguale a 2 alla 30. Ma se 2 alla x più 1 uguale a 2 alla 30, questa è un'equazione esponenziale, banale, perché hanno già la stessa base, devo uguagliare le potenze x più 1 uguale a 30. E quindi, Matteo, è quindi una banalissima equazione, porto l'una dall'altra parte, 30 meno 1, 29. Vuol dire che a questo punto ci serviranno 29 giorni, partendo da due stupendi animaletti, per ricoprire tutto lo stagno che avevamo prima ricoperto in 30 giorni. Concetto di tipo esponenziale. Logica? Sì, logica, ma anche tanta matematica. Ecco perché ti invito sempre a fare un salto, a vedere tutte le esercitazioni di matematica. Qui sotto il video migliore con l'esercitazione e con l'altra esercitazione di logica scelto appositamente per te. Iscriviti al canale perché ne stanno arrivando tante altre. Ciao campione!